Porto Sant'Elpidio ha ritrovato quest'anno una delle sue manifestazioni più suggestive, il Palio del Mare. Grazie alla volontà ed anche alla tenacia dei dirigenti e di tutto lo staff dell'Atletica Porto Sant'Elpidio, a partire dal suo presidente onorario Sante Isidori e da Bruno Brasili, è stato riallestito il classico evento estivo nato nel 1992 e che è tornato ad animare la cittadina rivierasca dopo ben 13 anni. Ci ha fortemente creduto anche l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Franche Lucci e la dinamicissima responsabile dello sport e del turismo Milena Sebastiani, ma hanno collaborato pure moltissimi cittadini con sponsorizzazioni e partecipazione per una serata che è stata sport ma non solo. Dal quartiere della Falleriense infatti come vediamo è partito un lungo corteo con musiche e balli che ha raggiunto poi il lungo mare sud presso la zona Mimose per dar vita ad una vincente sfida tra cinque squadre contraddistinte da un simbolo e da un colore. Così abbiamo il rione Squali in maglia gialla, il rione Sirene in casacca azzurra, il rione Delfini contraddistinto dal verde, il rione Cavallucci Marini in maglia rossa ed il rione Balene con la maglia color bianco. Ogni rione ha designato ed eletto un capo rione che per questa edizione 2018 sono stati nell'ordine Michela Incipini, Fabio Alcida, Orietta Cicchinè, Simone Passamonti e Matteo Simoni. Il coinvolgimento in questa sorta di staffetta podistica è totale perché per ogni singola squadra vengono schierati dieci partecipanti e nello specifico. Una bambina di età fino a dieci anni, un bambino di età fino a dieci anni, una ragazza di età fra gli 11 e i 15 anni, due ragazzi di età fra gli 11 e i 15 anni, una donna di età fra i 16 anni ed oltre, tre uomini di età fra i 16 e i 40 anni, un uomo di età di 40 anni ed oltre. Insomma, è una gara di atletica a tutti gli effetti perché gli sfidanti, come si legge dal regolamento, dovranno percorrere l'intero giro del circuito e consegnare il testimone al successivo frazionista nella classica zona di cambio appositamente delimitata. Spettacolo, animazione, socialità, con le tante cene che preludono il palio e sport, si coniugano per questo palio del mare molto sentito tra i vari rioni della città di Porto Sant'Elpidio che si sono impegnati anche nell'allestimento di vari opinti carri, da segnalare anche la presenza dei tamburini della contrada San Martino della vicina Sant'Elpidio a mare. Ma adesso torniamo a vedere le suggestive immagini del corteo che si è snodato attraverso le vie di Porto Sant'Elpidio, da via Marina a via Palermo, poi ancora via Curtatone, poi davvero tutti in marcia sull'itolale falleriense tra disco music e musica latina e soprattutto le coreografie che sono state particolarmente apprezzate. Qui vediamo il rione delle sirene con il caporione Fabio Alcida, 36enne, sirene particolarmente agguerrite per questa edizione del palio del mare che, come abbiamo detto in precedenza, ritorna dopo 13 anni di assenza, sirene che hanno vinto nel 92, nel 93, nel 96, nel 99, nel 2001, 2002 e nel 2004. Contraddistinti invece dal colore verde abbiamo i delfini. Caporione e Orietta Cicchinè, nell'albo d'oro i delfini hanno conquistato un solo successo, esattamente nel 2003, quindi nell'edizione di 15 anni fa e cercheranno ovviamente di rinverdire questo successo piuttosto datato i delfini che si localizzano nella zona sopra la ferrovia sud di via Marina della città di Porto Sant'Elpidio. Abbiamo già detto in precedenza che l'organizzazione è curata dall'ASD Atletica Porto Sant'Elpidio, un sodalizio davvero meritorio, nato nel 1984 con il suo fondatore Bruno Brasili e dal presidente Sant'Isidori che rappresenta un po' l'altra anima dell'Atletica Porto Sant'Elpidio. Siamo passati al rione contraddistinto dal colore rosso, vale a dire i cavallucci marini. i cavallucci marini, che hanno anche loro allestito un carro particolarmente bello, che sono i cavallucci marini a digiuno di successi. Ed immaginiamo che il caporione Simone Passamonti abbia incitato i suoi atleti per interrompere questa tradizione negativa, gli atleti con la maglia rossa nella zona sotto la ferrovia nord di via Marina. E vedete la perizia, la cura ed il gusto con i quali sono stati ideati e realizzati questi carri. Folla considerevole, dicevamo, lungo il percorso. Si calcono almeno 3-4 mila persone e forse è un successo dal punto di vista della partecipazione che è andato anche al di là delle più rose aspettative degli organizzatori. E qui siamo al rione contraddistinto dal colore giallo e dal simbolo degli squali. Provengono dalla zona Marchesa San Filippo, il caporione è giovanissima, Michela Incipini, 27 anni, e anche gli squali come i cavallucci marini non hanno mai vinto un'edizione del Palio del Mare. Ed anche loro quindi si presentano particolarmente combattivi per riprendere alla grande questa tradizione portoelpidiense. Difficile anche calcolare il numero effettivo dei figuranti, anche in questo ambito, come vedete, c'è stata un'edizione spontanea ed entusiastica. Due parole sull'atletica Porto Sant'Elpidio per chiudere il discorso che abbiamo iniziato in precedenza. Un club che ha organizzato nei suoi 34 anni di storia tante manifestazioni, dal trofeo città di Porto Sant'Elpidio al trofeo San Crispino, oggi è Piran, alla 100 chilometri marchigiana ed ovviamente a questo Palio del Mare. E la sfilata si conclude con il rione contraddistinto dal colore bianco, parliamo delle balene, zona sopra la ferrovia nord di Via Marina. Le balene che hanno un albo d'oro piuttosto ricco hanno vinto nel 94, 95, 97, 98, 2000 e 2005. Quindi hanno vinto anche l'ultima edizione del Palio prima dell'interruzione. Caporione è il 32enne Matteo Simoni, e quindi ricapitolando un po' i successi abbiamo sette affermazioni nella storia per le sirene, sei per le balene, una per i delfini. Terminato l'applauditissimo corteo, torniamo con le immagini alla competizione vera e propria, come abbiamo detto è una vera e propria staffetta con dieci atleti per gara. Il testimone in queste immagini passa dal terzo frazionista al quarto con le balene che sono in testa, seguite dalle sirene, terza moneta, ovviamente momentanea per i delfini, poi arrivano gli squali, il ritardo, almeno per il momento, sono i cavallucci marini. In questo momento sono impegnati i quarti frazionisti, le immagini evidenziano forse più di tante parole il grande impegno, la grande dedizione dei partecipanti, ognuno a difendere i propri colori, anche se le gerarchie, come vedete, in gara si stanno delineando. E la cosa probabilmente più importante è portare l'atletica leggera tra la gente, l'attività sportiva tra i giovani e i meno giovani, ma non relegata per una volta in palestra o in una pista, ma nel cuore di una cittadina e soprattutto nella stagione estiva, quando vedete la partecipazione è davvero cospicua, davvero molto molto importante proprio in termini di pubblico. Torniamo a vedere la situazione in gara, il cambio tra il sesto e il settimo frazionista. La situazione si è nel frattempo evoluta con le balene in testa, ma gli squali, dopo una bella rimonta di Michela Incipini, sono davvero ad una incollatura più in ritardo. Sembrano invece gli altri quartieri. Parte l'ottavo frazionista con balene e squali, che sono praticamente appaiati. Li vediamo i due protagonisti praticamente spalla a spalla, ma nel rush finale le balene sembrano prendere un leggero vantaggio. Siamo nei momenti decisivi. Parte il penultimo staffettista con le balene, che hanno una manciata di secondi di vantaggio sugli squali. Più indietro i delfini che occupano la terza posizione. Ovviamente quella che vi proponiamo è una sintesi. Siamo al giro di boa con le balene, che hanno 4-5 secondi di vantaggio sugli squali. Parte l'ultimo frazionista in maglia gialla in testa. Squali che quindi hanno rimontato alla grande ed ora per l'ultimo frazionista c'è da difendere il vantaggio e gli squali entrano nella storia. Secondo posto per le balene. Gli squali che non avevano mai vinto il Palio del Mare prima della lunga pausa festeggiano e ne hanno davvero ben donde il primo successo al Palio del Mare. Terzo posto per i delfini. Poi abbiamo il quarto posto delle sirene. La quinta posizione dei Cavallucci Marini. Questa è la classifica finale. La serata si conclude con il momento classico delle premiazioni. Il primo riconoscimento va al sindaco confermato di Porto Sant'Elpidio. Dopo le recenti elezioni vale a dire Nazareno Frankelucci, amministrazione comunale che ha dato una mano, come abbiamo detto, all'organizzazione della SD Atletica Porto Sant'Elpidio. Questo è il momento del trionfo per gli squali, capitanati da Michela Incipini. Questa è tutta la squadra che legittimamente festeggia il successo, il primo successo nella storia del Palio del Mare che è tornato quest'anno a Porto Sant'Elpidio. Gioia ed anche un pizzico di commozione per Michela Incipini, che è stata anche una delle protagoniste a livello sportivo ed atletico di questa affermazione, la rimonta degli squali è partita proprio da lei, poi è stata concretizzata ovviamente da tutti i suoi nove compagni di squadra. Come detto, ogni compagine è composta da dieci atleti e vediamo che sul podio vanno anche i figuranti. D'altronde anche loro hanno contribuito al successo di questa manifestazione. Più di tutti però ci ha impressionato davvero il pubblico presente sul lungomare Faleriense di Porto Sant'Elpidio che è stato strabocchevole. Vediamo anche sulla sinistra l'assessore al turismo e allo sport Milena Sebastiani, anche lei molto vicina al podismo. I premi però sono per tutti i partecipanti, a partire ovviamente dalle altre due squadre che compongono il podio con il secondo posto per i bianchi delle balene, la terza moneta per i verdi dei delfini. Capitanati rispettivamente da Matteo Simoni e Orietta Cicchine, ma l'organizzazione ha previsto premi praticamente per tutti i partecipanti, anche per le altre formazioni. Il quarto posto delle sirene ed il quinto dei cavallucci marini che completano la gradatoria di questo Paglio del Mare 2018. Siamo ormai in fase consuntiva e possiamo dire che va in archivio un evento che evidentemente dopo 13 anni è comunque rimasto nel cuore e nella memoria dei cittadini portelpidienzi e non solo. Esistono altre manifestazioni analoghe, soprattutto nelle località della riviera romagnola, ma coniugare insieme socialità, divertimento, spettacolo e chiaramente agonismo, quest'ultimo un aspetto determinante, sono fattori che tutti insieme si incontrano nel mare magnum delle manifestazioni estive, molto molto raramente. Questo è un pregio che va riconosciuto al Paglio del Mare e ci sono, possiamo dire, quindi tutte le premesse per dare continuità al Paglio del Mare di Porto Sant'Elpidio e che quella lunga interruzione che abbiamo vissuto per 13 anni resti soltanto un lontano o meglio un lontanissimo ricordo.